Emma dicevamo che questa tua impostazione, queste tue prese di posizione è una battuta, è una parentesi, però non possiamo non registrarla. Nei giorni scorsi, se non ricordiamo male, venerdì, sul Fatto Quotidiano, Francesco Padua Schioppa ha scritto che sarebbe il momento di... Sogna un governo buonino, rigore... Credo sia Antonio Padua Schioppa, scusa. Rigore, sacrifici ma equi. E quindi il nome tuo? Ma penso che a parte questo, insomma, ma a me sembra abbastanza evidente che questo paese, i cittadini di questo paese hanno bisogno di una diversa classe dirigente che anche nei propri comportamenti, nella propria storia e che ha il suo programma nella sua storia, perché al di là delle promesse giur in giurello che si possono fare per il futuro, ci impegniamo a fare, faremo, eccetera, eccetera. La storia di ognuno è il programma vero su cui i cittadini possono fidarsi di più e credo che la storia dei radicali e il loro presente attuale diano degli elementi di grande affidabilità in termini di correttezza, di correttezza di comportamenti, di trasparenza dei propri comportamenti, dalle iniziative di Cappato in Lombardia all'anagrafe pubblica degli eletti e anche di consistenza rispetto ad un'analisi certamente molto solitaria, diciamo, che facciamo della situazione italiana, la battaglia di Rita, di Marco ed altri, noi tutti quanti sulla questione del riportare questo paese ad una situazione di legalità, perché oggi noi abbiamo lo Stato che è in flagranza di reato e che va assolutamente interrotta e che poi l'assenza di Stato di diritto, di giustizia giusta, con la conseguenza spaventosa delle carceri, è poi uno degli elementi che si conoscono anche all'estero, ovviamente oltre che in Italia, e che è il perno fondamentale, a mio avviso, di un rilancio stesso del paese. Il declassamento che l'Italia subisce ogni giorno, non da Moody's o Standard & Poor's, ma sulle sentenze della Corte di Giustizia Europea, sulle carceri ne è una testimonianza. Sotto questo aspetto è appunto l'argomento che è in agenda radicale ed è in ordine del giorno del Senato. Questa settimana a Palazzo Madama si torna a parlare di carcere e giustizia, l'iniziativa di Pannella, dei radicali, dei tanti detenuti e operatori delle carceri. Le parole di Napolitano. Emma, la settimana scorsa Pannella ha evidenziato il rischio di una sessione non straordinaria, ma meno che ordinaria. Siamo alla vigilia della seconda tornata, premesso che alla Camera la conferenza dei capigruppo non ha ancora fissato nulla in tal senso. Ad oggi vi dovessi dire che nonostante gli sforzi centennali e poi di questi ultimi anni, insieme con tutte le attività anche della non violenza, aggiunti a quelli dei convegni, di studio, di riflessione, la situazione ad oggi è davvero più che deludente. Nel dibattito più serio e non sguaiato che si è svolto la settimana scorsa, in realtà la questione dell'amnistia come Grimaldello, e come Grimaldello davvero per una stagione di riforma della giustizia nel nostro Paese, un'amnistia vissuta e vista e proposta non tanto e non solo come atto di clemenza, ma vista come uno strumento che può non solo svuotare le carcere, ma soprattutto svuotare le scrivanie dei giudici e magari evitare le 200 mila prescrizioni annuali che sono una vera e propria amnistia non regolamentata da nessuno, ma decisa in pratica da chi ha l'avvocato più bravo, quindi più ricco, che fa durare più a lungo i processi e che quindi vanno in prescrizione. Quindi è stata una seduta in cui certo tutto è stato discerato, ma dicevo deludente perché lo strumento dell'amnistia come Grimaldello e come leva per una stagione di mutamento profondo della situazione della mala giustizia nel nostro Paese non è stata accolta da nessuno, è stata negata e respinta nella sua introduzione dallo stesso Ministro e anche nel corso del dibattito io ho sentito che ho seguito con molta attenzione, in parte ho preceduto, ho ascoltato solo due interventi, quello di Compagna e in parte quello del collega Ferrante del PD, pronunciare e sostenere questa proposta. Quindi siamo in una situazione davvero non solo deludente da questo punto di vista, ma clandestina nel senso che ha ragione Marco quando dice nonostante tutto, nonostante mesi, giorni, anni di iniziativa mai Belero, piuttosto che non so come diavolo si chiamano, mai abbiamo avuto o lui ha avuto la possibilità di un approfondimento, di parlare ai cittadini o almeno a una parte dell'opinione pubblica, cui invece hanno possibilità di rivolgersi tutti quanti in qualunque telegiornale o talk show che dir si voglia sulle cose più disparate e anche sulle cose diciamo certamente meno pregnanti di quello che noi radicali stiamo affrontando e portando avanti. E allora vediamo che cosa succederà questa settimana, anche ripetiamo se la Camera metterà in calendario questa discussione alla prossima conferenza dei capigruppo perché le firme a Montecitorio ci sono ormai da tempo, ma il resto della tua agenda politica, poi vediamo se riusciamo anche ad avere il tempo per un'altra domanda, però intanto… No, la settimana è piuttosto dedicata a questo e poi dovrò andare a parte le attività al Senato, venerdì sarò a Siviglia ad una conferenza non solo al femminile, ma insomma una conferenza molto importante di raduno organizzata dalla comunità sevigliana e poi parteciperò al congresso dell'associazione Luca Coscioni che anche lì riporta alla luce, tenta di riportare alla luce un tema che è quello della libertà di ricerca scientifica, quello della libertà di decisione, della libertà di cura e che pare completamente scomparso proprio dall'agenda di qualunque parte o settore della vita politica del Paese. Quindi ci occupiamo di temi che riteniamo molto interessanti e fondamentali per i nostri cittadini e che sono esattamente i temi che sono scomparsi dall'agenda politica e come faceva notare una lettera firmata da molte amiche e colleghe l'altro giorno, ieri sul Corriere della Sera, non solo spariscono i temi radicali, ma di già che ci sono, io sparisco anche dai sondaggi sostanzialmente, improvvisamente si trovano criteri sconosciuti per le quali insieme a tutte le altre donne che facciamo politica, improvvisamente scompariamo dai sondaggi, l'unica che viene proposta è la Marcegaglia e tutto commentato da un parterre di soli uomini ovviamente a Ballarò di martedì. Forse serve anche a noi una rivoluzione al femminicile in questo Paese che prima parla di quote, poi approva la legge sulle quote e poi di già che ci sei ti cancella persino dalla menzione o dalla possibilità dei cittadini di esprimersi o di dare la propria opinione. Quindi insomma malatempo raccurronto, ma il problema è invece di tentare nonostante tutto, dico bene, nonostante tutto, a reggere su queste posizioni, queste lotte di fondo con la non violenza o con gli altri strumenti che sapremmo inventarci, appunto perché sono gangli importanti nella vita del Paese. E chissà che le quote non fossero proprio funzionali a schemi di questo tipo, perché poi una volta riempita la quota… No, le quote poi cominceranno a riempirsi nel 2015, tipo Arabia Saudita per intendersi, per cui la legge entrerà in vigore mi pare un anno dopo la promulgazione. Ma appunto il problema è quello più in generale, in cui su questa questione davvero sono uniti tutta una serie di pilastri importanti del sistema italiano. Ed in quel senso ancora meglio va appunto segnalato il fatto quotidiano per quell'articolo. Emma, l'ultima considerazione davvero, abbiamo due minuti scarsi, però è la settimana questa che vedrà il raggiungimento della soglia di 500.000 firme e la consegna in Cassazione delle sottoscrizioni per il referendum elettorale. I radicali hanno denunciato per tempo i rischi di una disillusione quando poi si dovesse arrivare al giudizio della consulta nel prossimo mese di gennaio, anche con dovizia di documentazione, di argomentazioni dottrinarie e costituzionali. Ma in effetti non solo questo aspetto che è rilevantissimo e che abbiamo cercato di metterne in evidenza, ma anche quando se ne parla in giro, o ne parlo col colleghi o d'altro, anche con chi raccoglie le firme, in pratica nessuno nega la tesi che noi sosteniamo. Però poi ti dicono che serve per la mobilitazione, serve per essere uno stimolo, e così facendo capestando davvero i formatori per primi quello che è il dettato costituzionale. Il dettato costituzionale nel nostro Paese non prevede il referendum stimolo, prevede il referendum abrogativo con dei limiti precisi stabiliti dalla Costituzione, eccetera. Ma negati i referendum radicali, demonizzati per molto tempo, scongiurati con elezioni anticipate a tutto spiano, oppure con leggine parlamentari giusto per evitare il referendum, improvvisamente tornano di moda. E a me sembra che tornano di moda nel modo peggiore, cioè nel modo che non è quello che la nostra Costituzione è quella più bella del mondo e giusto appunto ha mai previsto. Gli stessi promotori ti dicono ma intanto agitiamo le acque è come se il referendum nel nostro Paese fosse un dato di agitazione, invece nel nostro Paese è la seconda scheda legislativa che i cittadini hanno in mano, ma appunto col vincolo non della propaganda o dell'agitazione o della mobilitazione a fini anche abbastanza confusi, ma con scopi specifici di correzione di legge. E in questo caso, come abbiamo dimostrato e cercato di dire anche con tutte le riflessioni giuridiche, non ci siamo proprio perché la tesi della riviviescenza della norma precedente è una tesi contestata da moltissimi e che in effetti è una tesi molto molto fragile. Grazie davvero ad Emma Bonino e buona settimana. Grazie alla Vice Presidente del Senato Emma Bonino.